dai sottopiani più elevati che cos'è l'estro commento l'estro è un'ispirazione che proviene dai sottopiani più elevati della mente dalla mente super normale pochi hanno l'estro perché le persone che appartengono alla fascia alta dell'evoluzione sono poche e le persone che appartengono alla fascia alta dell'evoluzione sono pochi, grazie a tutti